ciao runners e ciao amanti della corsa io sono lorenzo maggiani e questo è il podcast da zero a 42 una cosa al volo prima di iniziare che volevo tipo dire da mesi ma poi mi scordo veramente sempre due parole sui commenti su spotify grazie infinite a chi li lascia li leggo sempre veramente tutti ma purtroppo per come è fatto ad oggi il sistema spotify for podcaster posso solo leggere ma non rispondere per cui non prendetevela se non vi do lì direttamente riscontro perché è proprio tecnicamente impossibile farlo ma come detto vi leggo sempre vi ringrazio anche per questo gesto comunque apprezzatissimo ma veniamo adesso a noi è un episodio quello odierno che un po si lega ad un altro mio recente dove parlavo del non aver voglia di correre diciamo che un po' una parte due di quella puntata un modo per proseguire con il ragionamento sul tema con una visione comunque personale ed intima come sempre tra parentesi ho notato con piacere che non sono l'unico a parlare di queste cose ultimamente dato che lo fa anche con piacere l'amico claudio bagnasco di running sofia che ha fatto proprio un trittico di puntate filosofiche veramente super interessanti secondo me che in parte si possono anche intrecciare con i miei pensieri odierni valutando un po' come non sia così obbligatorio per forza gareggiare come si possa vedere e vivere la corsa per noi amatori e come in fin dei conti ci sia un rapporto intimo e quasi totalizzante con questo sport per chi corre come noi perlomeno lo sente al 100% come una sorta di parte integrante della propria esistenza e quindi ne fa anche di conseguenza una sorta di stile di vita per cui come faccio del resto sempre in queste occasioni quando si fanno dei discorsi alti e filosofici non tecnici divago un po' a caso su questi pensieri sparsi sperando che da qualcosa di così incerto ne possa scaturire un ragionamento perlomeno comprensibile e più ci sta che qualcosa lo abbia già detto qua era in precedenza così come qualcosa sia stato anche già detto pure dal sopra citato claudio che ringrazio per lo spunto che indirettamente mi ha fornito partirei da quello che per me è il concetto fondamentale e fondante dell'episodio odierno che poi da anche il titolo alla puntata stessa cioè il piacere di correre quello è essenziale sono le fondamenta della casa perché per noi amatori se proprio correre non fosse un piacere smetteremo alla lunga anche se poi c'è di più lo so benissimo e non è sempre effettivamente un piacere almeno in parte come dicevo anch'io nella puntata sopra citate come diceva in buona parte pure claudio riferendosi al rapporto a volte conflittuale ma tremendamente intenso che noi abbiamo e viviamo con questa disciplina perché per noi impallinati con il running diventa più che uno sport a un certo punto della nostra esistenza in modo graduale ma costante assume come una parte vitale dell'esperienza a tutto tondo magari sto esagerando però pensateci riflettete un attimo a quanti soldi e tempo avete investito in questa disciplina e parlando del tempo non mi riferisco solo alle ore trascorse fuori a correre che ovviamente ci sono ma anche ai momenti in cui a casa o al lavoro ci avete pensato ai minuti spesi nel cercare una gara online e poi iscriversi o a leggere recensioni di scarpe o altro materiale e poi una volta scelto cosa prendere a cercare il sito che lo vende al prezzo più conveniente oppure a guardare video su youtube a leggere roba sui social ad ascoltare podcast come questo tra l'altro a parlarne con amici e parenti che non ne hanno neanche voglia ma ti sopportano e così via ditemi voi se tutto ciò non cuba una fetta importante delle nostre giornate poi certamente ci sarà anche qualcuno meno fissato di me ci mancherebbe altro non è che tutti la vivranno così ma per me allo stato attuale la corsa è piuttosto centrale e si tratta di uno sport che coinvolge tanto quando ci si appassiona questo per dire che c'è un legame stretto tra noi e la corsa è molto totalizzante e ne nasce un rapporto a volte complicato tra piacere psicologico e sforzo fisico misto alle immagini che i nostri sistemi sensoriali dipingono in qualche modo durante la corsa tutta roba che a me stimola in qualche modo la riflessione mentre corro ma anche adesso se vogliamo in questo momento anche ora sto riflettendo con voi seppur ad alta voce ma alla base di tutto e torno al concetto iniziale c'è il voler correre perché è bello farlo punto perché ok cercare la gara figa che i motivi ok porsi un determinato obiettivo ok cercare costantemente di migliorarsi ok farsi 10.000 pippe mentali sul running tutte cose che faccio anch'io ovviamente ci mancherebbe ma secondo me c'è qualcosa di extra qualcosa in più o almeno dovrebbe teoricamente esserci qualcosa in più perché le motivazioni prima o poi scendono scemano ma se un'attività è così totalizzante appunto come dicevo così centrale non è possibile che tutto sia legato solo ad una questione di tempi risultati e soddisfazioni cronometriche tant'è che se vogliamo posso vivere io perlomeno io ce la faccio vivere senza gare pure questo lo diceva claudio anche perché le gare per come sono fatto io le voglio affrontare solo se le posso correre al meglio delle mie possibilità di quel momento non sono di quelli che gareggiano tanto per o hanno solo l'obiettivo del finirla ovviamente al tempo stesso non ho nessunissima ambizione di vittoria per carità di dio ci sono migliaia e migliaia di persone che sono decisamente più forti del sottoscritto però personalmente non credo sia nemmeno costruttivo affrontare una competizione senza una preparazione adeguata attenzione disclaimer non c'è nulla di male nel farlo nel viverla così ognuno è viverlo di affrontarla come gli pare non sto giudicando chi si approccia in questo modo semplicemente io non voglio fare così non c'è però un modo giusto o sbagliato in senso assoluto però secondo me è bello provare a sfidare se stessi e fare le cose a modino per così dire nei limiti ovviamente delle proprie capacità e possibilità anche in fatto di impegni personali e aggiungo che non è nemmeno troppo divertente a mio avviso spararsi a tutti i costi un'ultra da invento 100 chilometri senza essere pronti e poi agonizzare per gli ultimi 30 chilometri o giù di lì non è questo il tipo di esperienza che cerco piuttosto non faccio gare e non conta per me per come sono fatto io neanche la classifica certo la guardo è inevitabile ma per citare una frase che ho letto recentemente sui social di urma la gara è solo un'eventualità cioè non è una questione di vincere o di perdere anche perché non c'è il pericolo che vinca ma al tempo stesso non sto nemmeno disdegnando le gare perché sono una pippa non vorrei che sembrasse il mio concetto un po come la favola di esopo della volpe e dell'uva non è una questione di classifica per me è più una situazione dove posso vivere la natura la corsa le mie sensazioni perché a volte non è solo che ascolti gli uccellini che cinguettano è proprio un insieme di fattori spesso sono da solo con me stesso così come mi posso trovare durante una corsa lunga per sentire del weekend ad esempio o con mi capita pure durante una gara di ultra trail così non inflazionata a livello di iscrizioni e in questi casi non è che sei lì che ti godi proprio l'uccellino che cinguetta ma cerchi comunque di capire la situazione di viverla e a me piace quell'insieme non è facile da descrivere è un insieme di sensazioni un mix di emozioni corro in generale poi per me proprio per accrescermi per sfidarmi per assaporare appunto quello che mi sa offrire questo sport posso anche farlo vestito come cazzo mi pare tra parentesi al passo che voglio in alcune occasioni sempre ascoltandomi e sono cose che mi fanno stare bene che posso fare forse con più libertà correndo da solo per boschi che in una gara se vogliamo forse anche per questo non ne sono così ossessionato ma sono contento che sia così perché mi piace viverla anche in questo modo che a volte può sembrare una contraddizione quello che sto dicendo in questa puntata cioè dico che corro per migliorare e se faccio le gare le voglio provare a fare al top delle mie possibilità ma al tempo stesso penso anche di volermi liberare da alcune restrizioni e costrizioni me ne rendo conto ma queste sono per me due facce della stessa medaglia che possono convivere a seconda anche delle situazioni del mood con il quale si decide di affrontare una situazione ed è anche figo secondo me che in questo sport ci sia questa complessità e questo multiplo modo di affrontarlo volevo dire doppio ma non è solo doppio multiplo perché ci sono tante sfaccettature tanti modi differenti di affrontarlo tuttavia a prescindere da tutto cerco di ricordare a me stesso di ricordarmi spesso che è bellissimo correre anche solo perché piacevole farlo al di là di perché si corre perché ho proprio la voglia in generale a volte di uscire di casa e correre senza motivo apparente senza obiettivi particolari oltretutto ma solo perché è veramente una cosa che mi piace ed è bello riscoprire che sia soddisfacente farlo assaporare questa cosa che poi è un rito non c'è solo la corsa c'è lo studiare prima il percorso da seguire fare colazione prepararsi partire godersela ascoltando se stessi ed un po meditando mentre si corre io lo faccio è una cosa che a me riesce soprattutto negli allenamenti più facili quelli di corsa lenta se devo stare attento al cronometro o se comunque una seduta tosta non pensa un cazzo se non da sopravvivere ma entrambe le situazioni sono a loro modo piacevoli perché sì è bello pure sfinirsi e finirsi e mi piace sentire i muscoli che bruciano i dolori delle ore successive segno che si è lavorato su se stessi in qualche modo arrivare in ufficio stanco perché mi sono alzato alle 6 del mattino e mi sono fatto una sessione di qualità appena sveglio perché quello magari era l'unico orario buono per me per farlo alcuni miei colleghi mi guardano come fossi un alieno ma io lo faccio perché mi piace perché voglio farlo e sti cazzi degli altri ne vado fiero sono fiero di essere già stanco alle 9 del mattino ma contento di ciò che ho appena fatto che poi parentesi è uno stanco anche relativo perché in realtà sono piuttosto vispo quando sono così dopo aver già corso per un'ora un'ora e mezza aver fatto la doccia e tutto quanto sono abbastanza sveglio in realtà ma pure questo non il fatto di essere svegli ma il fatto che ci siano queste multiple possibilità è uno dei motivi per cui corro perché qualsiasi tipo di uscita vado ad affrontare tirato lentissima che sia ha dei pregi che sono differenti ma comunque hanno entrambe o tutti quanti in generale un modo per darmi qualcosa in cambio di diverso a seconda di cosa sto facendo ma pur sempre arricchente ed è per questo che vorrei provare a riscoprire più spesso ad accorgermi più spesso del piacere di correre a rendermene conto cioè lo so che è così ma a volte preso dagli eventi della vita non me ne accorgo invece dovrei e vorrei rendermi conto più spesso che sto facendo una cosa che mi piace mentre ne sono immerso mentre sono proprio lì che la sto facendo capire che sono lì correre e comprendere in quel momento che sono felice come quasi fermandomi per riuscire a farci caso riscoprendo il piacere che dà questo sport al di là poi del tempo e della performance insomma fatemi sapere la vostra sul tema su queste divagazioni sparse sapete dove trovarmi via mail su tegram su instagram i miei contatti sono come sempre in descrizione chissà che non ne possa nemmeno nascere qualche discussione interessante sul vostro modo di viverla e non escludo ovviamente di tornare in futuro nuovamente sul tema chissà vi invito a lasciare al solito anche recensioni a 5 stelline su spotify o apple podcast così come a diffondere questa e le altre puntate e infine vi ricordo che potete anche sostenere questo progetto qualora pensiate possa avere per voi un valore anche tangibile su paypal o con bei mia coffee per una donazione una tantum con patron in modo ricorrente mensile e per questa puntata delirante direi che è veramente tutto cari runners secondo me però dovreste riscoprire il vostro personalissimo piacere di correre ci sentiamo alla prossima puntata